Giuseppe Darpa, pensionato di 76 anni, sarebbe morto due giorni prima che venisse lanciato l'allarme, e cioè tra il giorno di Natale e Santo Stefano, per essere poi trovato cadavere soltanto ieri. I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo stanno indagando per omicidio, ma sono ancora tanti i punti oscuri su quanto accaduto nell'appartamento al primo piano di Via Demetrio Camarda, non lontano da Via P3. Lo stabile si trova all'interno di un residence in cui i vigili del fuoco sono arrivati con l'autoscada per accedere dal balcone. Ad avvisarli sono stati militari che, una volta giunti sul posto, hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa. A chiedere il loro aiuto, una donna dell'Est Europa, che per diverse ore aveva cercato di mettersi in contatto con l'anziano. Da tempo i due sarebbero stati amici e, stando a quanto raccontano i vicini di casa, lei lo avrebbe a volta aiutato nelle faccende domestiche. Una vicenda ancora avvolta nel mistero. Ogni pista al momento resta aperta. Il medico legale, che ha effettuato la prima ispezione cadaverica, ha rilevato degli ematomi compatibili con un'aggressione e la presenza di sangue, aspetti che farebbero escludere il malore e quindi una successiva caduta fatale del 76enne. La porta però era chiusa a chiave dall'interno e con diverse mandate. Solo una finestra era aperta all'arrivo dei carabinieri, ma piano terra e primo piano distano circa 6 metri. Giuseppe Darpa, ex postino, viene descritto da chi lo conosceva come un uomo molto riservato che non usciva frequentemente di casa. Fino a poco tempo fa in quell'appartamento vivevano anche l'anziana sorella ed un nipote. Poi sono nati degli screzi e i rapporti si sarebbero allentati. Ma non sono solo quelle le persone con cui il 76enne sarebbe entrato in contrasto negli ultimi tempi. In procura sono infatti emerse alcune denunce, sia presentate sia ricevute dall'anziano, in seguito a litigie e presunte aggressioni. Al momento non si esclude nemmeno però l'ipotesi della rapina. Darpa non navigava nell'oro, ma qualcuno potrebbe aver fatto irruzione in casa sua sperando di trovare soldi e oggetti preziosi. Il salotto in cui l'uomo è stato trovato senza vita infatti era in disordine, come se qualcuno avessero vistato nella stanza. Un giallo su cui gli investigatori contano di poter arrivare ad una svolta con i risultati dell'autopsia, che sarà eseguita domani all'Istituto di Medicina Legale.